Questo video è per te che utilizzi i nostri prodotti. La Forever aderisce da qualche anno alla famosa associazione mondiale Stop Hunger Now per contrastare la fame del mondo. Dare una chance ai bambini è qualcosa di fondamentale. Forever Italia quest'anno ha partecipato dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, grandi, piccoli, per dare un contributo a questa iniziativa stupenda. Abbiamo potuto realizzare, grazie a te che usi i nostri prodotti, tutto questo. E la cosa ancora importante è che vogliamo renderti partecipi, perché tu sei parte di questo amore. Lavoriamo insieme, un grande gruppo di consumatori, che fa la differenza nel mondo. Nel 2017 abbiamo creato esattamente 140.000 pasti realizzati qui in Italia. Veramente un grazie di cuore e rimani sempre con noi. Faremo qualcosa di ancora più grande l'anno prossimo. Sarà qualcosa di veramente eccezionale, perché crediamo che la fame nel mondo si possa fermare. Crediamo che questi bambini possano avere veramente la chance. Diamo da mangiare a tutti i bambini che vanno a scuola, perché proprio a scuola hanno bisogno di più energie per imparare e per poter far progredire la propria nazione. Ecco perché ci uniamo tutti quanti insieme, un momento di gioia che grazie a te, grazie all'aiuto che ci dai consumando i nostri prodotti, noi riusciamo insieme a te ad aiutare tutti questi bambini. Ancora grazie, ancora grazie, ancora grazie. Grazie a tutti.